Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon lunedì. È un lunedì complicato, è un lunedì difficile. Non è il primo video di questa settimana perché ho già pubblicato un brevissimo shorts, che non è proprio uno shorts ma è un'analisi della partita Juventus-Monza in tre minuti. Lo trovate qui su YouTube perché oggi è un po' più complicato parlare di calcio giocato e perché oggi usciranno poi anche le motivazioni della sentenza. Non so ancora bene a che ora, vedremo se riusciremo a fare un contenuto anche solo per ragionare a caldo, caldissimo, appena lette e poi affrontarle un po' più a freddo nella giornata domani con un po' di informazioni in più, qualche infarinatura in più perché come sempre, torno a dire, io non mastico queste cose quindi posso esprimere soltanto la mia posizione e il mio parere e farmi anche aiutare in realtà da voi nel capire poi alcune cose in più. Oggi faccio alle pagelle ai giocatori e all'allenatore di Juventus-Monza, quindi Allegri e tutti i calciatori. Penso che sia difficile, lo dico ancora una volta, parlare di calcio perché io sto continuando a leggere tantissime persone che mi chiedono la testa di Allegri. Per me Allegri andava esonerato all'andata. Monza 1-Juventus 0. C'erano due settimane di pausa nazionali, si poteva ragionare, non c'era nemmeno questo clima. Allegri è stato confermato. Allegri è stato confermato anche durante la pausa mondiale. Allegri è rimasto sulla panchina della Juventus anche in questo momento in cui è cambiata completamente la dirigenza. Allegri oggi, piaccia o non piaccia, può dire fare quello che vuole alla Juventus. Perché la Juventus oggi non si occupa, la Juventus di oggi, la dirigenza della Juventus di oggi non si occupa della parte sportiva. La Juventus di oggi, la dirigenza della Juventus di oggi, è impegnata a affrontare un'altra battaglia. Oggi il calcio per la Juventus è l'ultima preoccupazione. E Allegri ha pieni poteri sull'area sportiva proprio per questa motivazione qua. Può piacere o non piacere? Non è questo il punto. Il punto è che parlare oggi di cambio allenatore è una follia. Perché non si sa nemmeno che cosa farà la Juve l'anno prossimo. Se ci sarà una pena più grande, se sarà ridotta, se queste motivazioni dureranno, se saranno confermati punti, se ne verranno aggiunti altri. Se ci sarà una stangata anche da parte della UEFA, se ci sarà una stangata a livello penale per via degli stipendi. Perché ci saranno delle ammende grosse probabilmente sotto quel punto di vista. O se ci sarà addirittura anche una stangata non solo economica ma pure di penalizzazione. Non sappiamo niente. Oggi parlare dell'allenatore della Juventus, cambiarlo o non cambiarlo, è follia. Poi però dobbiamo essere onesti con noi stessi, tra virgolette, e fare un patto con noi stessi. Dato che su questa analisi comunque continueremo a parlare di calcio, le limiti del possibile, perché so che è dura parlare di calcio oggi, ma dobbiamo provarci. Allora dobbiamo far finta che questa roba non esista quando facciamo le analisi delle partite. Perché per me è palese, palese scontato che la partita ieri sia stata fortemente inquinata a livello mentale, psicologico, da quello che sta accadendo. È palese. Però poi quando facciamo l'analisi queste cose dobbiamo cercare, tra virgolette, di mettercele via. Così come dovrebbero, tra virgolette, cercare di mettercele via i calciatori andando in campo. Ed è difficile. È quasi impossibile. Perché stiamo parlando di essere umani. Se noi tifosi siamo abbattuti, a maggior ragione lo sono loro. Che questo è il loro lavoro e non sanno nemmeno che cosa accadrà nella loro vita professionale. Però poi se parliamo di calcio, dobbiamo parlare di calcio. Ed è per quello che poi ieri ho fatto il secondo video sulle parole di Allegri. Perché già la situazione è dura e difficile. Non mi piace vedere che l'allenatore pubblicamente va a complicare ulteriormente tutto il momento bianco-nero. Perché questo è un momento difficile. Veramente difficile. Non per il campo. Non solo per il campo. Sono cose che l'allenatore deve dire giustamente ai suoi ragazzi. Deve cercare di accendere quella valvola ai suoi ragazzi. Ma probabilmente non farlo pubblicamente. Nell'intimità dello spogliatoio. È per questo che io ad Allegri do 4. Le motivazioni del perché ho dato 4 ad Allegri sono già state spiegate anche in un video che ho pubblicato ieri su numero 10, subito dopo la fine della partita. Magari vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare a vedere il video attraverso l'app. Allegri ieri non mi è piaciuto. Secondo me ha sbagliato completamente la preparata male la gara. L'ha preparata malissimo. Poi ci sono state delle altre micro sfumature che andremo a vedere all'interno di queste pagelle. Semplicemente non è stato all'altezza di quello che doveva fare. Perché vedendo nel complesso la partita di ieri ti chiedi qual è la squadra che tecnicamente dovrebbe valere meno. La Juventus o il Monza. Preparata male dall'allenatore, giocata male dai giocatori. Poi ripeto, parlare di calcio oggi ragazzi dobbiamo utilizzare veramente il facciamo finta che non esista la penalizzazione. E' complicato. E se con l'Atalanta c'era stato quel boost energetico, forse anche di orgoglio, ieri abbiamo avuto l'effetto opposto. Quasi la depressione del momento che stiamo vivendo. Allegri si dice quelle parole a fine gara perché probabilmente ha avvertito che qualcosa nella squadra si è rotto. La domanda che vi faccio, che vi facevo anche ieri è, questa squadra è abbastanza forte psicologicamente per reggere non solo il momento ma anche queste dichiarazioni dell'allenatore che fanno per forza di cosa tendenza e creano un argomento di discussione ulteriore tra i tifosi? Non lo so, vedremo. Scesni, 5 e mezzo perché non ha colpe sui gol. Magari sul primo che prende sì, che poi viene annullato dal VAR per una spalla, un ginocchio di Caprare in fuorigioco. Però quello non vale, per il resto non grandi colpe su Scesni. Sul secondo gol viene completamente scartato e saltato ma c'è un suicidio collettivo della Juventus in fase difensiva che permette all'attaccante del Monza di ritrovarsi nell'area piccola a tu per tu con il portiere. Ci sta che prenda gol in quel modo. È praticamente un uno contro uno. Quattro agatti che non ci ha capito veramente niente nella gara di ieri. Veramente niente. In serie a difficoltà, spesso e volentieri. Giocatore che oggi è palesemente non adatto a una Juventus che vuole cercare quantomeno di ritornare a metterle basi per vincere. È ovvio che da questo momento in poi, ribadisco, la stagione sportiva ha subito uno scorsone un terremoto e quindi fai poi anche un po' fatica a capire per cosa sta giocando la Juventus. Ieri Allegri diceva per salvarsi, io ve lo dicevo già la prima di Monza. Che quest'anno dobbiamo giocare per salvarci. Perché ho delle cattive sensazioni e temo che davvero sarà necessario salvarsi sul campo. E quindi non si può più sbagliare. Ieri Allegri diceva, ci sono dei giocatori che se non sono pronti, non se la sentono, fanno fatica, allora che non giochino. Immagino che d'ora in avanti ci sarà un cambio di mentalità sull'utilizzo della Rosa. Se fino a due giorni fa Allegri ci diceva, adesso giochiamo ogni tre giorni, c'è bisogno di tutti. Le parole di ieri vanno in netta contrapposizione e va a creare anche una sorta di barriera, di muro all'interno di alcuni giocatori. Quindi un muro all'interno della squadra. Vediamo chi sarà coinvolto, se giocatori come Gatti che magari comunque ci mettono del loro, ci mettono impegno, ma non sono in grado, o altri tipi di giocatori come vedremo poi. Bremer per dire il livello ce l'ha, ma Bremer è in un momento terrificante, terrificante. Non ci sta capendo più niente, sembra quasi che gli alieni di Space Jam gli abbiano rubato il talento. Da Napoli in poi Bremer non sembrava più lui, ha giocato una partita di buon livello, ma le altre due, terrificanti. Sembrava di avere un qualsiasi difensore, uno a caso, metterci un difensore a caso di qualsiasi livello, di qualsiasi categoria. Anche quando scartano Scesni dei giri su quel gol, vabbè, andiamo avanti, 4 e mezza. Danilo 5 del migliore della difesa, e comunque ragazzi stiamo parlando di un 5. La difesa ieri non ci ha capito niente nei singoli e nel complesso. È ovvio che quando la difesa non viene aiutata dal centrocampo, e quando abbiamo quella disposizione, come vi ho mostrato nel breve video di tre minuti, vi lascio comunque il link qui sopra nelle schede, la difesa soffre. Però ragazzi, mamma mia, proprio mamma mia, 4 e mezza De Sciglio, che sicuramente non era in condizione, non giocava da ottobre, una roba del genere, e allora la domanda è, capisco, momento di emergenza, lo capisco, ma per forza di cose De Sciglio per un'ora, 70 minuti, forse allora te le vai pure a cercare. Perché De Sciglio ieri sembrava un giocatore di una categoria diversa dal giocatore del Monza che agiva sulla sua fascia di competenza. Gli serviva il motorino per andarselo a prendere. Si vedeva che non ne aveva, non è mai stato un fenomeno, è sempre stato un giocatore da riserva, un onesto mestierante, forse nella Juve serve qualcosa di diverso dopo tanti anni, un rinnovo che francamente si fatica a comprendere. Si è sempre detto, almeno io ho sempre detto Allegri, ha altri tre anni, ha andato piena fiducia di Allegri, vediamo dove va. Però poi tutto questo discorso che sta venendo fuori adesso e queste complicazioni di lato futuro ti fanno davvero interrogare e ti fanno dire, ma uno come De Sciglio adesso? Cosa ce ne facciamo? Perché non può essere un giocatore da Juventus, non può essere un giocatore della Juventus. Ancora dopo tutti questi anni, con tutti questi problemi fisici e forse adesso addirittura titolare, perché vediamo anche cosa succederà a quadrado, se recupererà. Non il meglio in questo momento, situazione veramente sia dentro che fuori dal campo pericolosa. Fagioli 5 e mezzo, un'altra cosa che mi chiedo è perché Allegri tolga fagioli a fine primo tempo. Una domanda che mi faccio, perché non ha sicuramente fatto la partita più bella del mondo, ma era l'unico, davvero l'unico, che in mezzo al campo cercava di fare qualcosa, che aveva degli spunti, che aveva la voglia, che faceva il movimento senza palla. Fine primo tempo viene Ju, allora alzo le mani. E allora il discorso è, se vogliamo parlare di calcio, parliamone, ma la sostituzione di fagioli francamente non la comprendo. 4 a Paredes, perché se Gatti magari non ha le capacità per giocare nella Juventus, Paredes ce le ha. E come? Perché Paredes non è scarso. Paredes è un giocatore forte, forte. Però poi bisogna dimostrarlo e volerlo dimostrare. Viene sostituito, alla fine del primo tempo, da Allegri, al pari di fagioli, prestazioni completamente opposte, atteggiamenti completamente opposti, status completamente opposti. Io ormai su Paredes mi sono espresso più e più volte. Faccio veramente fatica a digerire la sua personalità. E credo che per la Juventus, fino ad adesso, sia stato soltanto un danno. Un danno. E mi interrogo ancora come sia stato possibile preferire Paredes alla permanenza di Rovella e Rosa. Quante volte ce lo siamo detti quest'estate? Terrei Rovella, piuttosto che andare a prendere Paredes, che è un giocatore fragile a livello di infortuni, o poi fino ad adesso ha pure retto bene. Che costa tanto a livello di ingaggio, costa tanto a livello di cartellino. Non credo che vada a stravolgere il centrocampo della Juventus. Ieri Rovella ci palleggiava in faccia. E non è solo perché è Rovella, ma è perché sicuramente un giocatore con del talento, all'interno di un sistema di gioco, che ieri ci ha mostrato idee chiare. La Juve ieri sembrava una squadra composta da bambini che ricevevano il pallone lanciato dai carri di Carnevale e si mettevano a giocare per strada. Torno a ripetere per l'ennesima volta. Sicuramente la penalizzazione influisce, lo fa per certo. Ma tante volte abbiamo avuto questa sensazione. Anche in questa annata. Poi il 3-5-2 sembrava avere un attimino rimesso le cose a posto. Adesso non si ha più nemmeno quella sensazione di concetti base. Di concetti base. E ancora mi interrogo di come Paredes possa essere un giocatore finito alla Juventus. Non lo so. Rabiot 5 perché a parte una sgruppata che fa ieri nel secondo tempo c'è veramente poco di Rabiot all'interno della Juve di questa seconda parte di stagione 2-1-23. Sicuramente non ancora il Rabiot della prima parte che avevamo visto. 4-5 a Kostic. Il fantasma Formaggino sul gol dell'1-0 si è fatto una bella dormitona. Forse potrebbe essere pure un 4. Forse 4-5 è pure eccessivo. Davanti poco e niente. Dietro disattenzioni dormite. Non bene. 4-5 a Di Maria che ieri non era Di Maria ma era in versione Zia Maria. Perché non è sempre da giocare a una finale Coppa del Mondo. Non c'è sempre da giocare uno scontro diretto al Maradona di Napoli. Ci sono anche delle partite intermedie. Ci sono anche delle partite differenti. E io avverto un po' troppo a supponenza da parte dei giocatori della Juventus. Ieri Di Maria dice non è facile giocare con questa pressione ma dobbiamo anche togliercela di dosso. È verissimo. Condivido al 100%. Però da uno come lui, campione del mondo, campione del Sud America, campione europeo con Real Madrid. Una carriera incredibile, un talento cristallino. Io pretendo di più. L'altro giorno l'ho definito trascinatore. Però devi trascinarmela anche nelle partite col Monza. Che l'ha andata all'espulsione. Ieri partita di una mediocrità imbarazzante con errori tecnici banali che non sono da lui. Non si gioca sempre a finale Coppa del Mondo. Si giocano anche queste partite. E la maglia della Juventus va comunque onorata anche in queste partite. Bisogna avere comunque la voglia di portare a casa il risultato anche in queste partite. Perché se no poi il tifoso si sente anche preso in giro. Perché ci sono giocatori che possono dare di più e non danno di più. Sono giocatori che possono dare di più e se ne fregano. Sono giocatori che possono dare di più e danno di più soltanto quando vogliono loro. Ora poi il tifoso rischia di sentirsi veramente preso in giro. Perché ci sono dei giocatori forti all'interno di questa squadra. E devono essere forti anche mentalmente. E non è facile mandare giù questi meno 15 che ti sei conquistato sul campo. Te li sei conquistati e te li hanno tolti. Devi trasformare questa delusione in rabbia. in rabbia. Se no poi qui finisce davvero malissimo come dice Allegri. Perché è vero? Perché rischia che finisca male? Poi il fatto di dirlo pubblicamente a me sembra un suicidio. Però ci sono dei giocatori che stanno facendo un po' troppo quello che gli pare. Che è in quattro e mezzo. E anche qui. Finché Allegri me lo mette sempre là. Riferimento offensivo. Spalla la porta. Che cosa ci può fare il povero Moise? Che è un giocatore che deve attaccare la profondità. Cinque. Hailing perché entra e praticamente non lo serviamo mai. Non viene mai preso in considerazione. Quasi mai. Paio di spunti e basta. Se è Locatelli. Il primo tiro della partita è il suo. Al minuto 61. Primo squillo. Qualcosa ci mette ma stiamo parlando della prima sufficienza fino adesso. Dovrebbe essere qualcosa di imbarazzante. Vero? Lo è. Se è Sule un'altra sufficienza qualcosina fa però stiamo parlando di due sei all'interno della prestazione ovviamente nessuno di quelli schierati al primo minuto. L'altro sei è Milik che starà fermo per un po'. Anche questa voglia di rimetterlo su quando era infortunato quando mostrava di non stare bene. Si parla di almeno un mese di stop. E 5 e mezzo a Vlaovic che quando entra comunque non riesce a dare il suo apporto non riesce a far valere le sue qualità. Però siamo sempre lì. Lì davanti la Juventus è una confusione continua. Si vede che non c'è niente di preparato di organizzato. Sembra sempre vediamo come va giornata dopo giornata. Perché questa Juve ha sicuramente dei giocatori forti dei giocatori di qualità delle qualità individuali di livello. Però poi non basta. Bisogna anche cercare di metterle insieme in un contesto di un certo tipo. E soprattutto maggior ragione ora che il livello difensivo della Juventus sia abbassato terribilmente rispetto al passato. Sennò così non si va da nessuna parte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.